Dario Corallo, che noi ringraziamo per essere venuto, facciamogli un grande applauso. Dario è presidente dell'associazione RETS, giusto? Sì. Presidente? No, presidente è un altro in realtà. Vabbè, fondatore, animatore, insomma. Quindi anima quest'area politica fatta anche di molti ragazzi, che interloquisce anche con un'area politica importante con cui noi vogliamo dialogare e quindi vogliamo anche ascoltare da lui cosa c'ha da dire. Grazie. Grazie a voi. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per avermi invitato a questo incontro, dato che le occasioni di confronto e dibattito sono sempre meno. e così come è annullata di fatto ogni possibilità di attivismo, di partecipazione, di militanza che negli anni è calata drasticamente in tutta la società italiana. Allora, è proprio da questo punto che vorrei partire per tornare poi nel binario, diciamo, della piramide, ma per formazione io non sono un economista, aggiungerei per fortuna, e per formazione sono studiato filosofia, quindi non mi chiedo il come, tendenzialmente mi chiedo il perché. Quando David Lisetti mi ha parlato di questo incontro e mi ha parlato quindi di rovesciare la piramide, la prima immagine che mi è venuta in testa è quella che avrete visto tutti nei libri di scuola, quando si parla, mi pare, della rivoluzione francese di solito, c'è il disegno della piramide con sopra c'è il re, poi ci sono i nobili, poi il clero, la borghesia, proletariato, chiaro, pulito, semplice. Allora, questa piramide non esiste più, non esiste più perché il re, almeno per quello che rappresentava, non esiste più, la nobiltà non esiste più, il clero sì, ma non ha quella funzione che aveva lì, la borghesia rimane, il proletariato rimane. Allora, prima di rovesciare la piramide, occorre capire com'è fatta questa piramide oggi. Allora, abbiamo detto che borghesia e proletariato ci sono ancora, li vediamo, non li chiamiamo più così perché suona antico, suona non si sa perché, ma insomma esistono. e non credo di rovinare il finale a nessuno se dico che in cima alla piramide non c'è il re sole, naturalmente, ma c'è il grande capitale multinazionale, Bezos, Musk, chi più ne ha più ne metta. Allora, la domanda che ci dobbiamo porre è chi c'è in mezzo tra questi due? Cioè, tra il proletariato e Bezos, in mezzo, chi c'è? Sicuramente c'è la piccola impresa, piccola e piccolissima impresa, che spesso conduce una vita molto più simile ai propri lavoratori che non alle classi superiori. Parlo del proprietario del negozio, della pizzeria che entra insieme al proprio lavoratore ed esce insieme al proprio lavoratore e che per anni abbiamo definito un padrone, benché facesse esattamente la stessa vita alienata e sfruttata del suo dipendente. E poi c'è la grande impresa, medio e grande impresa, certo non come quella multinazionale enorme eccetera, ma comunque in grado di cambiare, di modificare la vita di migliaia di persone, di lavoratori, di cittadini. Allora, questa piramide ha quindi quattro livelli. Da quando chiunque sia nato più o meno negli anni Ottanta, come il sottoscritto, non ha mai vissuto in un periodo che non sia di crisi. Cioè, ammazza come vanno bene le cose, non l'abbiamo mai sentito come generazione. Allora, le cose sono due. O qualsiasi sistema, qualsiasi sistema, in qualsiasi momento della storia, o è stabile e dura, oppure è instabile e quindi collassa, viene rovesciato, oppure trova il modo per modificare, per cambiare. Questa piramide, come l'abbiamo appena descritta, sembra smentire questo principio, perché siamo in crisi da 30 anni, 40 anni, eppure sta ancora lì. Allora le cose sono due. O non è vero che un sistema in crisi di per sé collassa, oppure nella piramide ci siamo dimenticati qualcosa, quello che può essere un elemento di stabilità. Ci ho pensato e alla fine in realtà c'è un altro sceto che si pone esattamente al centro di questa piramide. Sotto c'è la piccola impresa e il proletariato, sopra c'è la grande impresa e il capitale internazionale. Questo sceto che sta in mezzo si chiama classe dirigente. Questa classe dirigente non è i politici, è nel senso più largo del termine. Sono politici, certo, magistrati, professori universitari, i grandi professionisti, giornalisti. Tutti questi personaggi che hanno gradualmente garantito il proprio posto, la propria permanenza asservendosi al grande capitale. È avvenuto con una strategia precisa e innanzitutto con uno strumento, la paura del deficit, la paura del debito. Questo strumento è potentissimo perché fa passare un'idea semplice che prima citavi. L'idea è che l'economia di uno Stato sia come quella di una famiglia. È un'idea talmente semplice, elementare, alla portata di tutti e c'è un debito, a chi gli devo dare questi soldi? A qualcuno gli devo dare, se no non si chiamava debito. Questa idea è passata e una volta instillata questa paura si è iniziato a dire che non c'erano i soldi, non c'erano i soldi per i servizi e si è iniziato a tagliare e per ogni taglio il grande capitale arrivava subito e offriva quello stesso servizio che era appena stato tagliato. A quel punto serviva un altro passaggio, cioè giustificare e in qualche modo deresponsabilizzare il grande capitale. E come lo si fa? Lo si fa prendendosi i giornali. Si abolisce qualsiasi tipo di finanziamento ai giornali, vengono comprati sempre dal grande capitale ed ecco che ti ritrovi che da un giorno all'altro il motivo per cui ti hanno tagliato l'ospedale è per colpa del fatto che quello della pizzeria sotto casa non ti ha fatto la ricevuta. La micro evasione, la piccolissima evasione diventa la causa del tuo esserti rotto alla gamba e non aver avuto il gesto subito. Questo è stato il secondo passaggio. Vi è poi un terzo passaggio e cioè che in tutto questo la classe dirigente che sta là in mezzo era ancora scalabile. Bisognava impedire che fosse scalabile, impedire che i lavoratori potessero diventare classe dirigente. E come lo si fa questo? Lo si fa con il mito della competenza che schiaccia la rappresentanza, lo si fa con l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e il risultato qual è? Il risultato è che si va per cooptazione. Vuoi fare politica? Sì, candida al consigliere municipale, fai le tue cosine belle sui diritti, disabili, quelle cosine belline. Non ti diamo più di quattro soldi perché a noi non interessa, basta che non metti in discussione il sistema. E ecco che il sistema è chiuso, è fatto, è pronto, è confezionato. Quindi non c'è niente da fare? E vado a concludere? No, c'è da fare. C'è da fare perché in realtà questo sistema ha un elemento di crisi. L'elemento di crisi è che si fonda tutto sulla cooptazione. Vuoi lavorare all'università? Bene, il dottorato di ricerca, se non lecchi il culo a un professore universitario, non te lo fanno fare. Vuoi fare politica? Se non lecchi il culo a un dirigente, non vieni candidato. Io quando mi ero candidato al congresso del mio partito, tempo due mesi, hanno raddoppiato le firme necessarie a candidarsi perché quella cosa non doveva più succedere. Allora, questo meccanismo di cooptazione in realtà genera rabbia e questa rabbia è lo strumento più potente che possiamo avere dalla nostra parte perché per ogni giovane che riesce a entrare centinaia vengono esclusi e quelle centinaia che vengono esclusi sono doppiamente rabbiose perché la mia generazione è cresciuta con la storia della società della cultura, quell'enorme fregnaccia per cui se noi avessimo studiato nella vita saremmo stati classe dirigente, col cavolo. Abbiamo studiato, siamo molto più colti delle generazioni che ci hanno preceduto, siamo la generazione più colta che si è esistita nella storia e stiamo in mezzo a una strada. Allora, questa povertà ci ha costretto, ci costringe quotidianamente a lavorare per dei capi, dei dirigenti, tronfi, ignoranti, saccenti, perbenisti dalla mentalità piccolo-borghese e con l'empatia di una tigre del Bengala quando non mangia da una settimana. Allora, questa roba vale per tutti i paesi. Sì, ho finito, scusate. Prima Di Battista diceva, me lo sono segnata, che serve una battaglia culturale. Le battaglie culturali non esistono. A noi serve organizzazione, strutture e soldi. Tutto il resto diventa un circolo di conversazioni per intellettuali borghesi annoiati. Solo così possiamo effettivamente rovesciare la piramide in due fasi. Perché se te la prendi subito con Bezos perdi male, non per esperienza perché non sarei qui. Ma si perde male. Ribaltamento in due fasi. Prima la classe dirigente che va abbattuta politicamente, si intende. Anche perché se no mi arrestano. Poi si va a togliere gli strumenti al capitale di poter incrementare se stessa ad infinitum. Noi siamo forti però di un fatto che siamo anche poveri, disorganizzati, smarriti. Ma siamo di più. Tanti di più. Quindi vi ringrazio e buona continuazione a tutti noi. Grazie. 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 Grazie.